Ben trovati nell'angolo dello sport. Novità importanti per quanto attiene il calcio giocato e poi invece per quanto riguarda la organizzazione della società. Cominciamo col calcio giocato. Gli arbitri sono stanchi di dover valutare il fallo di mani, è volontario, non è volontario, è punizione, non è punizione. Bene, hanno deciso e quindi bisognerà adesso stabilirlo da quando partire, probabilmente si partirà dal prossimo campionato, è sempre fallo punibile quando il braccio si stacca anche di un centimetro dal corpo. Come dire che il calciatore nella fase di gioco deve stare con le braccia completamente attaccate al corpo. Come si stacca di un centimetro e va verso il pallone è fallo di mano. Poi a seconda della zona in cui accade può essere un calcio di punizione o può essere un calcio di rigore. Questo per quanto attiene il calcio giocato. Per quanto attiene invece il rapporto societario, adesso voi sapete che c'è stata una chirella e continua adesso, fraconi e governo, adesso il governo ha detto per dare una mano, ha detto faremo una legge proprio per favorire quelle società che volessero aprire all'azionariato popolari. Di azionariato popolari si è sempre parlato. Per esempio Pescara in questi giorni ha fatto l'acquisizione dei bond, ma non c'entra un tubo, non è azionariato popolare. Quello significa spillare soldi a qualcuno che è a boccone, regala dei soldi che non vedrà mai più all'80%. Potrebbe anche rivederli con la percentuale di interesse, ma è tutta un'altra cosa. Invece l'azionariato popolare è diverso. Tu non sei uno che prende una obbligazione, ma sei socio della società, come succede nelle società della Spagna, soprattutto il Portogallo. Quindi in definitiva questa azionariato popolare che in Italia non ha mai avuto successo potrebbe averlo proprio con l'intervento del governo che farà una legge ad hoc. E' tutto per questa edizione, un affettoso abbraccio come sempre. Ringrazio Leo Di Blasio, il regista. Appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport.